aveva ricevuto un regalo una sua amica gli aveva riportato un breve testo intitolato irriverente presunzione che lui aveva scritto quasi vent'anni prima ed era ormai diventato quasi illeggibile sulla carta scolorita dal tempo l'uomo che aveva dimenticato l'esistenza di quelle parole non fece fatica a scorgere qualcosa di suo in quelle frasi provenienti da un'altra età pensava di aver fatto uno sbaglio tornando in città a sera in una fredda giornata di fine dicembre trascinava le sue vecchie membra e i suoi sensi offuscati tra passanti distratti che si muovevano dentro un caos di luci e di rumori non temeva la morte ma gli restava nella confusione dei suoi pensieri solo un'ombra dell'insaziabile vitalità giovanile aveva sperato fino all'ultimo di beffarsi delle parole vuote e insincere di uomini e donne ma quel giorno proprio non ci riusciva si sentiva sempre più solo malinconico ed esangue non si riconosceva più ritrovò se stesso solo nella calda penombra di un ampio edificio dove molte persone celebravano in tutta serietà la nascita avvenuta circa venti secoli prima di un suo presunto figlio l'uomo non si identificava ancora con il vecchio stanco e confuso che sembrava solo attendere la fine ma avrebbe voluto un giorno possibilmente lontano trovare la sua stessa forza per un nuovo ultimo sogginio prima che calasse per sempre il sipario come obbedendo all'ebro invito di un grande poeta maledetto se hai intenzione di tentare fallo fino in fondo altrimenti non cominciare mai e ciò sarà migliore di qualsiasi altra cosa tu possa immaginare se hai intenzione di tentare fallo fino in fondo non esiste sensazione altrettanto bella sarai solo con gli dèi e le notti arderanno tra le fiamme fallo 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 fino in fondo fino in fondo avvelcherai la vita fino alla risata perfetta è l'unica battaglia giusta che esista gennaio l'uomo si inerpicava nel silenzio nel freddo e nella neve verso una casa isolata sul fianco del monte la sua mente uscillava tra desideri e rimorsi paure e speranze mentre i folati di vento gelido penetravano sotto il suo giaccone le nubi alle sue spalle avevano cominciato a velare il cielo diverse volte si era reso conto di aver trovato una lastra di ghiaccio solo dopo averla contemplata a pochi centimetri dagli occhi mentre cercava di rialzarsi velocemente da una delle sue goffe cadute un'ora dopo le nubi si estendevano fino all'orizzonte che minacciavano di scaricare fulmini tuoni pioggia o più probabilmente neve improvvisamente mentre tutto si oscurava si sentì nella sua piccolezza dentro qualcosa di immenso che non va aggiudicato e ordinato ma soltanto vissuto ammirato e amato qualcosa che non è estraneo come un oggetto da dominare qualcosa che non è estraneo come un oggetto da dominare ma che è parte di noi e di cui noi stessi siamo parte adesso sentiva meno freddo faceva sempre più attenzione ai suoi passi calpestava le orme dell'uomo che lo precedeva cercava la neve fresca vi affondava il tallone per ottenere una presa più stabile si appoggiava quando poteva agli alberi agli steccati o alle pietre e non cadeva più non sarebbe più caduto sapeva che ciascuno raggiunge inesperto la soglia di ogni età della vita ma quel giorno in quel preciso momento mi sembrò di aver capito o forse di aver ricordato che non si può cadere da una montagna se noi siamo quella montagna quando arrivò alla casa incredibilmente ancora asciutto apprezzava il tempo e l'eternità il silenzio e le parole la presenza e l'assenza la solitudine e la compagnia l'instabilità e l'immutabilità delle cose non avrebbe fatto nulla per cambiarle l'idea di migliorarle gli sembrava una bestemmia febbraio avvicinandosi alla piazza prima aveva sentito le note di un brano di musica classica e poi aveva visto un ragazzo e una ragazza che danzavano i loro corpi giocavano armoniosamente avvicinandosi e respingendosi a volte il ragazzo sollevava la sua compagna facendola volteggiare in aria per poi riposarla lievemente a terra a volte lei si lanciava in eleganti evoluzioni accompagnate dai disegni creati con una lunga striscia di plastica mentre il giovane forse per riposarsi assumeva la posizione di un manichino per terra un cartello invitava gli astanti se avessero gradito la prestazione a lasciare qualche spicciolo o qualche banconota l'arte dei due ragazzi non ambiva ad alcuna permanenza essi non avevano niente altro da lasciare se non un'emozione evanescente come i loro gesti l'arte del presente e del passato invece per aver valore aveva spesso cercato di esprimere verità immutabili eterne di rispecchiare la perfezione di ciò che effettivamente è inteso come ingenerato imperituro eterno cioè fuori dal tempo immutabile immobile unico omogeneo necessario e perfetto perché se non essere non esiste non è pensabile e non è dicibile allora tutto ciò che muta che nasce che cresce che muore non ha vera realtà e può essere solo o un'illusione o una copia imperfetta di ciò che veramente è o una sua creazione sempre imperfetta rispetto al creatore l'uomo pensò che oggi in un tempo in cui le cose eterne e immutabili avevano fatto bancarotta come le verità che pretendevano di esprimerle forse il modo più onesto di dire qualcosa era appunto un tentativo leggero modesto non invadente e ai limiti del silenzio come quello dei due ragazzi le note di De Bissiri impivano l'aria solcata dai gesti della bella ragazza ed egli ammirato lasciò una banconota nella cassetta e si avviò verso casa marzo alle nove di sera scese dal treno e si avviò lungo la statale intasata da una lunga fila di auto incolonnate rivedeva ancora il lago baciato dal sole la panchina su cui si erano seduti per raccontarsi squarci della loro vita le strade entro cui avevano camminato prima a braccetto poi per mano e infine abbracciandosi come se i loro corpi non sopportassero più che alcuna distanza potesse separarli rivedeva i suoi occhi scuri i capelli corvini il corpo magro e fremente mentre proseguiva verso casa incamminandosi su strade vuote e solitarie giocò come faceva da bambino quando ancora non sapeva che l'universo danza freneticamente sui piedi del caso scommise che se fosse riuscito a camminare per 30 passi senza aprire gli occhi l'avrebbe presto rivista ed entrò nel buio uno due tre i primi passi erano spediti poi man mano che crescevano i dubbi sulla sua capacità di mantenersi sulla traiettoria fissata diventavano incerti tredici quattordici quindici infine camminava lentamente proteggendosi il volto con le mani da eventuali ostacoli davanti a sé ventotto ventinove trenta aprì gli occhi contento di non averlo già fatto come pure aveva desiderato forse in questo mondo disincantato le magie dei ambulatori funzionavano ancora andava già con il pensiero a un nuovo incontro tra le montagne che amava nella sua città nella sua casa e in qualche posto da cui il mondo potesse essere lasciato fuori risentiva il suo profumo il sapore delle sue labbra il calore del suo corpo non sapeva che l'avrebbe rivista non c'erano state né promesse né impegni ma il fatto stesso di averla conosciuta gli sembrava un miracolo un dono stupendo e inaspettato giunto a casa salì per le scale ripetendosi come in un nuovo gioco magico la vita è meravigliosa la vita è meravigliosa la vita è meravigliosa non c'erano Grazie a tutti.